Adesso andiamo a presentarvi delle coppie che ballano nella classe A. La prima coppia che vi presento... Scusate. Nicole e Pietro, loro ballano nella categoria 14-15 anni, classe A. Arianna e Samuele ballano per colpa di Samuele, perché Arianna è molto più giovane. Ballano nella categoria 19-34, classe A. Benissimo. Chiaramente per loro che ballano nella classe A questa pista è molto stretta, ma per questione di tempo devo farli ballare insieme. E anche per loro... Samba. Chiaramente per loro che ballano nella classe A. B. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene.